ciao a tutti sono alessio 19 870 continuo il gameplay di devil minecry 4 via allora devo stare andando avanti di qua per aver fatto fuori quei deficienti lì allora la chiave di crono ha iniziato a vibrare in risonanza con la macchina hai usato la chiave di crono ok devo arrivare da sopra allora hai evitato sbagliare allora ecco adesso sì no sbagliato ho sbagliato porta aia finisce il tempo ripreme di nuovo ecco qua ok dove la porta ecco lì ora no merda cercare di andare lì in alto è più possibile cioè arrivare da giù adesso no quasi merda è un po' dura ecco solita tattica no di là di qua allora ecco la porta vai sì ce l'ho fatta ok smaltimento esperimenti ecco ecco le solite armature del cazzo uh un diamante rosso gigante uh sì beccati questo armature del cazzo oppa sì è un andato sì e vai vuoi prenderle vuoi prenderle vieni qua beccati questo ui porca miseria ui stronzo oh cazzo volete prenderle sì sì fuori coglioni ok ne avanti di qua allora di qua allora il talismanolato ha iniziato a vibrare in insonanza con la macchina hai usato il talismanolato ok salgo di sopra di qua ok qui salgo di sopra e lì si chiude ma porca miseria e che cazzo ancora ma vedrò ti coglioni veramente eh ficua armature di merda stronzo stronzo si si bastardo vieni qua oh oh neanche tempo di colpire volete prenderle eh si beccati questo maledetti stronzi mamma mia invece i coglioni vieni qua adesso le prendi veramente eh adesso le prendi si mo state esagerando eh si è uno sì vai che ti colpisco sì è due oh finalmente ok andiamo di qua dietro questa porta potenziamo un po' c'era oggetti allora eh 10.000 facciamo questa mai usata sì facciamo così dai entriamo ok e parte un filmato ecco ecco sì uh vado subito al sodo mamma mia che botta ecco 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 la lì moto eh ecco ecco moto sì u u vai adesso devo vedermela con Dante mmm allora dunque finisce qui i gameplay di devil my cry 4 un ciao da alessio 19 870 al prossimo gameplay lì 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 lì